ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono già gaiqueser 2000 e oggi siamo di nuovo qui su fifa 17 per fare un'altra partita su ultimi team con la nostra squadra adesso a noi mancano solo tre punti per arrivare in per prendere il titolo della divisione 5 così che noi già siamo riposti in alta in divisione 4 ma possiamo andarci con il titolo della divisione 5 il nostro avversario raga una bella premier league solo con due giocatori con quattro giocatori di grandi squadre di club solo con quattro giocatori di grandi squadre di club adesso dopo aver conquistato la promozione adesso si comincia la partita abbiamo il calcio inizio e si comincia giorginio taglian vediamo dai ragioni di casa giorginio scarto una pezza adesso mini tira milico tiro fuori ragazzi mi tiro fuori tiro fuori adesso adesso la valla c'è la scuola avversaria scatta albiollo ma albiollo riesce a recuperarlo giorginio come calcio Amesik va Insigne scatta Insigne scatta Insigne. Scatta Insigne... Scatta Insigne scatta Insigne Scatta Insigne Scatta Insigne millions Roger Giorginio Caion 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 Giorginio Occhio al tiro che può valere Era un tiro di mili scavolato dal portiere Calciandolo per noi Dai albiole, dai albiole C'è spazio per andare Hanno spezzato bene la trama qui Intervento rubilo ma corretto Sicursion Vai Bulama Alan Bulama dove il tiro Tiro medio Non ho alzato bene Adesso faccio sinibili per la spraversaria Albiolo Riusci a sfittare il colpo di testa correttamente Adesso la palla c'è ancora per la spraversaria Martinsic la recupera Vai Giorgini a mili Ultima chiusura difensiva Bulama E Giorgini si arriva pure la palla Ma la riprende Vai Caillon Scatta sulla fascia Caillon Scatta sulla fascia Decaillon Decaillon Cassa Caillon Traversaria Cassa Caillon Intercettato Calcio d'angolo per noi Amnick batte l'angolo E il portiere batte l'angolo alla para Vai Giorgini Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo La pasta a Milik Tira Milik Insigne Lorenzo Insigne 1-0 ragazzi 1-0 1-0 per noi Dai così Dai così Dai così Equilibrato Ma non è esattamente quello che stiamo vedendo Dai già Questa squadra ha saputo Attenzione a non farci rimondare Reguliamo sta palla Reguliamo palla Grande Giorgini Ma come ti fa Alla resta Calcio di munizione La squadra avversaria Ecco il defu L'arbitro forse dovrebbe controllare La distanza della barriera Che mi sembra vicina onestamente Ecco il direttore di gara Che vuole far arretrare la barriera Che in effetti ha guadagnato qualche metro E' rinnava il tiro Dai Milik Dai Milik Amsik Calionna Ci fai il passaggio Occhio all'Hunter che avanza Buram mi dure bene Giorgini Amsik Calionna Adesso Hunter Attenzione 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 Grande Reina Che farà il tiro E' attaccante avversario E' attaccante avversario Ci sarà una rimessa dal fondo Giorginio No Adesso ce l'abbiamo noi La palla Calion Dai Allan Dai Allan Dai Allan Dai Allan Dai Allan Dai Arek Dai Marek Tira Arek Tira Milik ragazzi Milik Oggi si stava dimostrato 2 e 0 ragazzi 2 e 0 2 e 0 Termini di questa gara Stavano attaccato con maggiore insistenza Il gol era nell'aria Hanno qualità da vendere La differenza si sta vedendo Tutta il camion Si fermiamolo E' un'allecchia Dove Meno male Meno male Allan All'anno 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 E' Vede 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 La squadra Versaria Gran Tiro Di Tifo Un gol Davvero Eccezionale Non poteva Arrivarci Tutto Arrival Ragazzi Siamo Già Unestro Del Banci Pai Non Sottile Un altro Goll Milik Insini Giorginio Milik Non riesce A recuperare Il L'app Lice Le Passaggi Di Giorginio Adesso la faceva la squadra avversaria Adesso è Insigne Dai Alan che tu Alan Insigne dai Insigne Dai Insigne sei da solo Insigne Tira Insigne tira Dov'è pietta ragazzi Insigne Dov'è pietta di Insigne 3 a 1 3 a 1 Dai Dai così Dai così Dai così Adesso Lukaku Alan non regura palla Milik Dai Milik Dai Milik Basta Giorginio Adesso vai Samzic Giorginio Tira Giorginio A Masic E non riesce a effettuare il colpo di Samzic Vada troppo alto Adesso attacchiamo ancora noi Caillon Bossa la Caillon Bossa la Caillon Milik Doppietta anche per Milik ragazzi 4 a 1 ragazzi 4 a 1 Tiene il primo tempo 4 a 1 4 a 1 dai Vada fuori a essere albio a recupera palla Insigne Milik Dai Milik Milik scatta un avversario E non riesce a scartare un altro Perché il suo passaggio Stendere città Dal difensore avversario Adesso Defo sulla fascia Ma lo ferma al viola Ulam Amsic Dai Amsic Dai Caillon Dai Caillon Cossa Caillon Giorginio scatta un difensore Tira a Giorginio 5 a 1 ragazzi 5 a 1 5 a 1 Lo stiamo distruggendo Lo stiamo distruggendo il nostro avversario Si è trattato chiaramente di autogol Immagini chiarissime Il potere non se l'aspettava ovviamente Un autogol davvero sfortunato Cioè come hanno dato l'autogol al portiere Scusami Come hanno dato l'autogol Ditemi Cioè che non ha toccato proprio il pallone Non ha toccato proprio Questo deve essere il gol di Giorginio Ma non va niente importante che abbiamo segnato Il tiro di Vito e Rena Fara attentamente il tiro E sto calcio in angolo Tiro il calcio entriendo fuori Calcio di rinvio Giorginio E Guilbari fermalo Non abbiamo altri gol Tiro intercettato Grandi difensori Grandi difensori Isai Albiol E perde palla Ma recupera Isai Caglion Trasso un passaggio alto a Milik Ma difesa per 7 Attenzione Milik recupera palla Milik recupera palla Va bene fermata l'ultima Da difensore Bellerin Fini primo tempo raga Fini primo tempo E vingiamo 5-1 Già abbiamo fatto 11 tiri 6 borta Mamma mia raga Mamma mia Che partita questa Molto grande la differenza di valori Per pensare che in questo secondo tempo Possa cambiare qualcosa Vediamo Si avvicina all'area Attenzione qui Attenzione qui Ai Giorginio Milik Milik Passa le Insigne Bravo Milik Dai Insigne Dai Insigne Dai Insigne Crossa Crossa le Insigne Spazio con i Furi Il fortire Adesso la passo con un colpo Io Sto ad Alland Dai Alland Scarto un difensore Alland Prove il tiro Tiro Furi Tiro Furi Non era facile Trovare il gol da lì Ma ci ha provato Cante Cullibari Giorginio Giorginio Amsic Giorginio Giorginio Scarta due difensori centrali Vai Giorginio Tira Giorginio 6 a 1 ragazzi 6 a 1 6 a 1 Quest'altro dovrebbe ritirarsi il nostro avversario Dovrebbe ritirarsi Speriamo di sì Speriamo di sì Infatti se si darà Quindi la Vittoria è nostra In fine uomo partita Buono raga Buono Andiamo in difensione 4 con il titolo Spero che questo video vi sia piaciuto Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao